Ok ragazzi prima di iniziare volevo avvisarvi che domani essendo martedì è il nostro giorno libero e quindi come sempre immaginerete che avremo diverse magari commissioni da sbrigare per cui probabilmente ragazzi non avrò tempo per mettermi a registrare e ad editare quindi è quasi sicuro che domani non uscirà alcun video e c'è una grossa probabilità che anche giovedì e venerdì ragazzi può essere che non riuscirò a pubblicare nulla a causa vari impegni per cui io in ogni caso cercherò in qualche modo di registrare qualcosina almeno per giovedì o venerdì in ogni caso vi chiedo scusa per questo grosso inconveniente per cui comunque ci vediamo ragazzi quando capita io vi vado aggiornando sui social e qua sulla community di youtube Eeeh what's up a tutti ciò ormai benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Buon lunedì ed eccoci qua di ritorno dobbiamo andare a giocare il capitolo 9 che si intitola all'ombra delle fortificazioni La macula si espande sempre di più nel sangue di Yugo e Lucas si sente incapace di poterla aiutare gli servirebbe la conoscenza contenuta in un libro raro custodito nell'università della città lì vicina Ma lì si offre di accompagnare Emissia, conosce la strada ed è determinata a salvare il fratello dalle grinfie dell'inquisizione Per cui ragazzi appunto il nostro obiettivo attuale è di raggiungere questa benedetta università Ma sembrerebbe che il libro che dobbiamo cercare ragazzi è una sorta di libro proibito tra virgolette Per cui la cosa direi che è alquanto interessante Ah le famose fortificazioni quelle del titolo di questo capitolo Uh perfetto Mary fammi strada Senza timore C'è sta ragazza ragazzi ma non so se ci rendiamo conto che va in giro assolutamente Scarsa Eh l'inquisizione Eh ma va Eh grazie non è che ci volesse un genio proprio Che cosa noti Cosa semplice proprio Rubi ti ammazziamo Proprio vai vai Sì certo sicuro Eh Ha sicuro Hai visto che i tuoi piedi sono neri vero? Ci provo di certo non è che ho piacere a morire eh Per cui grazie mille mille mi raccomando riguardati fai la brava ragazza Grazie ciao è stato un piacere grazie di cuore Perfetto Allora ragazzi adesso siamo totalmente soli non c'è nessuno con noi Che operazioni? Che dovete fare? Oh Bella domanda Allora intanto direi di dare una sbirciatina qua Perché magari c'è qualcosa che ci serve Non possiamo prendere niente ragazzi Nessuna risorsa Siamo al completo Sono proprio curiosa di sapere che diavolo stanno combinando questi pezzazzi di cacca In questo posto Perché stanno evacuando tutte le persone Le stanno mandando via ragazzi dal loro villaggio Così brutalmente Quindi già questa è comunque una violenza direi È giusto lì Perfetto Beh vicino eh direi Proprio vicino Allora scendiamoli qua E Missia mi legge nel pensiero ragazzi Ho appena detto che è praticamente lontano comunque This is your last warning before we drag you out on your arse Oh 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 M'ha vista Oh ma c'è Madonna mi farei divorare dai ratti Guarda se potessi A te sti pezzi del merda Guarda un po' te come trattano la povera gente Sì Vabbè allora intanto Guardiamoci sempre intorno ragazzi Perché qua intorno è pieno di risorse Che non possiamo prendere tra l'altro Qua dentro Ok questo sì Il tessuto sì L'unica Ah c'è pure questa Aspettate Ecco qua Questo anzi cavo E continuo a pensare che si chiami corda Però fa niente Saliamo qua Anche qua che cosa abbiamo Stiamo tornando indietro Esatto Qua si tornava di sopra Che genio Va bene ragazzi Allora voi restate anche lì di guardia State tranquilli Sento dei rumori che non mi piacciono Mi sa che questo posto Ecco qua Robetta da niente proprio C'è del tipo C'è del tipo Se volete rimanere nella vostra casa Come giusto che sia Vi giustiziamo ragazzi Eh state assolutamente tranquilli Allora qua ragazzi Mi dispiace ma Dobbiamo accenderla Sì o sì Uh Non pensavo che sto stronzo Tornasse indietro Quasi quasi mi faccio beccare Ok Dobbiamo usare l'ignifer ragazzi Non c'è altra scelta Vada Allora almeno abbiamo quel punto di riferimento Il problema è che il pezzo di merda tra poco tornerà Anzi sta già tornando E adesso mi vedrà Oddio ragazzi Mi sono salvata tipo in corner Oddio 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 Facciamo attenzione per l'amore del cielo Non ci facciamo beccare adesso Ok Accendiamo qua E procediamo Dove devo andare Maledizione Ah devo andare di qua Dove sta il nostro amico in pratica Uh Ok Ok Calma 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 Ah ce li arriva No cazzarola No no Bravo Potrei ammazzarlo se Ah no aspettate però c'ha l'elmo Ah il Devorantis Ce l'ho uno Ce l'ho Perfetto Usiamolo ragazzi Appena si ferma Ed è di spalle Mi dispiace amico Mi dispiace ma ti è toccato proprio E Ecco Problema risolto Oh I topi che stanno facendo un pasto grandioso Ragazzi ringraziatemi Franchi e Franco eh No non siate troppo calorosi per l'amore del cielo Non c'è bisogno Va bene Io vi saluto Me ne devo andare Non ho più tempo da perdere Ok Dobbiamo trovare sta benedetta università ragazzi Dobbiamo trovarla Senza avere troppa paura Ah Oh oh Ah caro amico Mi dispiace Ma devi morire Oddio Eh che diavolo è Il tuo collega è divorato Da una massa di franchi qua Eh ma va Dai davvero Ti piacerebbe fare la sua fine Ma tu sei un genio amico Ok Fabbrichiamolo un altro paio ragazzi Perché ci servirà mi sa eh Passare inosservati La vedo un po' difficile Perché il nostro amico è qua Per cui Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Facile e veloce Risolvi tutti i tuoi problemi Con la fionda Oddio Non è che dopo adesso mi vengono a divorare a me no? Io mi auguro sinceramente di no Perché potrebbe essere un grande problema questo Ok amico Scusa ma ti prendo questo Ne ho proprio bisogno Guarda un po' te che c'aveva la borraccetta Con l'alcol Sto brutto ubriacone Allora questo possiamo prenderlo Qua non si va da nessuna parte E si va signori E' meglio andare sempre con calma Amico non lo so Non tesor risponde Stai parlando da solo Spero che Le voci nella tua testa Ti sappiano rispondere Ma con chi parlano queste persone? Ah ok Madonna come sfondano la pietra ragazzi Via Corvaccio del malaugurio Allora Questi franco ragazzi Sono di una potenza inimmaginabile Qua possiamo prendere qualcosa Vediamo Niente ragazzi Niente C'è un inventario talmente strabieno Che le nostre tasche Proprio gridano Abbi pietà Di noi giocherina Basta Non ci entra più Niente Oh Dovremmo ingrandire un pochettino La nostra sacca delle scorte Qua anche ci sono Tutte cose Non possiamo prendere Tranne cavo Che ha ancora un pochettino di posto La sacca del cavo Eh Attenzione Ok Chissà se Là ragazzi C'è qualcosa Però Tanto il bastoncino Non credo che ci aiuterebbe Ad arrivare fino a lì Per cui Saluto Oh E me ne va Opla Oh Oh Madonna santa ti spacco la testa Ma posso lanciarglielo attraverso le sbarre no? Ma allora perché non ti ammazzi scusa eh? Ci sono 10 miliardi di franchi qua in giro Che darebbero guarda di tutto per Oddio Per divorare le tue carni Mi dispiace davvero ma purtroppo devo usarti amico Mi dispiace è una cosa orribile Oh merda E questo? Da dove sta uscendo sto stronzo? Che quasi mi scopre Nel tuo sedere Oh torcia 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 Ragazzi banchettate Ehi Quanto mi dovete dire grazie Madonna mia che incubo qua Fra inquisizione E franchi Che divorano qualsiasi cosa Si muova E' veramente un incubo E peste tra l'altro Oddio Gesù Oddio Gesù Non lo sedevo comunque pezzi di merda Ah certo Vi dobbiamo anche ringraziare no? Quindi vi dovrebbero anche ringraziare Di quello che state facendo Certo Certo Eh Eh lo so Però 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 come dovrei fare Oddio Madonna oh ragazzi Ve dovete dare calmata Allora devo buttare giù qualche cadavere ragazzi È bruttissima questa cosa Ma Me ne devo servire Oddio 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 Perché devo passare qua in mezzo Che cavolo Ciao ragazzi Oh ma dovete dare un attimo di respiro Perché sono appena passata In mezzo a una cosa raccapricciante Eh vabbè ma qua non c'è speranza Allora qua di quasi un attimo Eh madonna come siete aggressivi Uh Ma lì c'è qualcuno Non ce l'ha l'elmo O ce l'ha l'elmo Non lo capisco Allora devo accendere qua E restare un attimo nascosta Senza che mi veda Quindi ho bisogno di questo Ecco qua No 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 Non hai visto niente Tu non hai visto niente Io rimango di qua Guarda Se ne vada signore Se ne vada Perché è proprio qua a sbirciare No no Assolutamente niente Guarda Ma ce l'ha l'elmo Non vedo Cazza Rola C'è il culo di Emissia Sì ce l'ha l'elmo ragazzi Scusa amico eh Ma Era proprio necessario Per cui Ecco qua Toh Altro problema risolto Yuppidu 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 Eh ragazzi Vi state diventendo Sì sì Stanno banchettando alla grande Allora Adesso io come dovrei passare qua in mezzo No Sul serio dico Aspettate però Posso passare qua Sì Uppi Ecco fatto Altro problema risolto Allora Qua però c'è niente che posso fare Sembrerebbe di no A meno che non posso andare di là No Va bene ragazzi Io vi saluto Fatevi i vostri party Le vostre feste Divertitevi Sassolino Lo prendo anche il cavo Ah però devo passare proprio da là Mi sa Mi sa di sì ragazzi Perché qua Non si procede Per cui Come ve l'hanno detto È stato bello Salutarvi Ed è bello rivedervi Sempre Bellissimo Sicuramente Sì però Devo trovare una via d'accesso Perché Oddio Questo potrebbe essere un problema Un problema Grosso Grosso Grossissimo Ah Ah no Non ci passo qua Cazzarola Ecco qua Niente Ok Non è di qua che devo andare Questo è chiarissimo No che pale Di nuovo questo Ok ragazzi Devo essere repentina Devo essere fulminea Fulminea Top Ecco fatto Di nuovo Risolto Il punto è che Comunque devo passare Da là O devo passare di qua In qualche modo Come faccio O devo per forza Crearmi Questo Luminosa Ragazzi Che però Richiede diverse Risorse Per cui Criamone uno E raccogliamo Quello che possiamo Raccogliere Ecco qua Ok Proviamo così Ah ma Da cucciata Non mi fa lanciare Proprio una cinta Cioè o perlomeno Mi fa lanciapire Un certo punto Ok ragazzi Scusate Me voglio bene Che schifo Eh ma Vedete ragazzi C'è Ah ok Per fortuna Di qua c'è Della luce Oh Sì 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 Eh Tieni 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 Stretta la tua fede Eh Per carità Questo potrei provare A distrarlo Magari Ma magari Qua intorno Ragazzi Ci sono Eh Delle risorse Che potrebbero Servirmi Eh Mannaggia Dai Facciamo così Ecco a lei Signore Mi scusi Anche lei Mi dispiace tanto Tac Ok Altro problema Risotto Alla grande Lì c'è una cassa Ragazzi Forse potrebbe essermi utile Eh E ora qua come passo 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 Qua col cavolo Ce passo Ah ok Devo accendere qua Niente Sto usando un sacco di risorse Ragazzi Avevo appena detto Che ho la sacca piena Mi sono data proprio La zappa sui piedi Allora Qua sotto Non si passa manco Per il cavolo Ok Vediamo un attimo Che cosa si può prendere Qua intorno Sassi 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 Di qua Niente Ma bastoncini Non ce li abbiamo Per andare di là Non ce li abbiamo Eh ragazzi Io capisco la vostra rabbia Ma Oddio Mi stavo per buttare Da sola Alla in mezzo Dovrei usare Un altro di questi ragazzi Però c'è Usare altre risorse Per andare lì Niente ragazzi Dovrei usare Luminosa Ma c'è Non Veramente non me la sento Adesso di usare Così altre risorse Sinceramente Per cui Ci facciamo il segno Della croce E procediamo di qua Andiamo va Vediamo un po' Se riusciamo Ah Eh chi se lo scorda Immagino La puzza La puzza Di piedi marci Mamma mia Vabbè A parte gli scherzi Ragazzi È veramente Una devastazione Ci siamo vicini Davvero Che sei Superstiziosa Che pezzi Vabbè che è chiuso Eh Madonna i cadaveri Ragazzi Per terra Oddio che schifo Non ce l'ho Non ho fatto tanto caso Allora Ah ecco qua Eh certo Questo è davvero interessante Ragazzi Sto metodo Almeno non ci fa Usare risorse Possiamo indirizzarlo Dove caspita Ci pare Per cui ragazzi Volevo vedere Un attimo a spostare Perché là ho visto qualcosa Di interessante Ecco qua Quasi mi divorano Le unghie dei piedi Prendiamo queste risorse Franco Ve dovete dare una calmata Però eh Siete troppo aggressivi Ultimamente E non ho capito Tutta questa rabbia Questa cattiveria Oh Allora Sì 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 Andateci piano però eh Raggiù di luce Poi anche aprire la strada Ai ratti O bloccarli Eh ma va L'avevo capito Ok Allora Prendiamo qua Qua c'è un banco da lavoro Qua dentro Perfetto Abbiamo due attrezzi Vediamo cosa possiamo migliorare Niente 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 Ragazzi Non abbiamo abbastanza risorse Per migliorare Niente Chi c'è qua sopra Vi disturbo Ehi Scusate Grazie ragazzi Uh che schifo No 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 Potete continuare a divorarlo Fate un po' come vi pare Insomma Ma a me non è che fa tanta differenza Oh no Povero Franco È rimasto bloccato Mentre gli altri Banchettano Lui è rimasto lì Buon appetito eh Non badate a me No 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 Non ci sono altre due belle Cosciazze Carnose Da divorare Assolutamente No Allora Passiamo di qua Ecco fatto E vediamo Ok Però dobbiamo passare Dove questi stanno Giusto Almeno immagino Vi Eh madonna che schifo Vabbè Senso fa senso ragazzi C'è stato poco da fa Rimanete là nell'angoletto Mi dispiace Ho provato a volervi bere Ma È troppo complicato Se cercate sempre di divorarmi Le dita Dei piedi Allora Magister L'episanguis L'episanguis È un alchimista Cos'è quella cosa Alchimile If I may be so bold We know it comes from those rats But What's it for? We call this odorous That is just one of the effects Of the episanguis When we mix it with sulfur But that's not what we are interested in But So Why don't we let our units use it, eh? It could It is too precious Each episanguis crystal Must be kept for our project Particularly as In this form It has been the source of some How should I say Regrettable accidents Deliver it to the bastion That is enough for today Regrettable accidents Imagine you spill something on your feet You'd have to do your patrol on your ass Ha 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 Bene Abbiamo imparato una nuova formuletta Direi Certo Lo imparerai subito Come on It's just a symmetry Ce dobbiamo passare dentro Emissio Mi dispiace Pure a me l'idea Eh Non piace un gran che Madonna santa Madonna santa Oddio Che spettacolo Era capricciante Eh sì ragazzi Oddio santo Madonna mia Ok Andiamo avanti Facciamo finta di niente Allora Ragazzi Siete bloccati là sotto Vi dirò la sincera verità Non mi dispiace Per niente proprio Capite Di qua non si passa Va bene Immagino che dovremo Andare qua sotto Per cui Ci sarà qualcosa Là sotto Non ci terrei a vederlo Oh Ecco Ah adesso scendiamo di qua Giustamente Trovata geniale Ah Che cos'è Sta merda È zolfo Ok ora puoi creare l'odore Stimi premuto Ok per aprire Perfetto ragazzi Abbiamo un'altra Risorsa a disposizione Attrae i ratti Dalla zona circostante Per cui L'odore Attira i ratti Nel punto di impatto Dei proiettili Per un breve periodo Di tempo Attenzione Mirare su le scale È un odor Per attirare I ratti Perfetto Quindi Questo coso Può essere utile Per insomma Portare i ratti Da un'altra parte In pratica Per cui Direi di usarlo Lì Ecco qua Uh Esatto Non è più così durevole Espande la possibilità Di miglioramento Dell'equipaggiamento Di amissia Ah sì Fantastico Dà più possibilità Di poter migliorare L'equipaggiamento Solo che non abbiamo Tante risorse A disposizione Come sempre Allora ragazzi Ho bisogno Della vostra collaborazione Adesso Per cui se Vi Portate tutti di là Mi fate un grandissimo Favore Però appunto Ci ricordiamo Che l'effetto Non è poi così durevole Per cui Non perdiamo Troppo tempo No 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 Non è lontanissimo Dai Però scusate Allora a sto punto Qual è la differenza Con luminosa Ah Questo però Gli elimina proprio i ratti E costa molto di più Rispetto all'episanguis Effettivamente Per cui Ovviamente È magari più Utile usare questo Minchia Comunque Li attira ragazzi Anche da una certa distanza Ok ragazzi State fermi Non vi muovete Per l'amore del cielo Lasciatemi in pace Che cosa Mi sto scordando Di qua Ah eccolo qua Eppisanguis Non ce lo perdiamo Per carità Ok qua non ci arrivo Cosa potrei avere bisogno Ah Devo 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 andare proprio di là Mi è stata a sbarrare la strada Ragazzi Spostatevi un pochettino Più a destra Un po' più a sinistra In questo caso Era a destra Ma qua niente Eh Quasi mi divorano Le unghie Delle dita dei piedi Qua sotto c'è Della roba interessante Però Mo ci vuole Usare risorse Ok allora ragazzi Dobbiamo cercare Di usare Saggiamente Sti raggi di luce Ah Ok Intanto guardiamo Un attimo qua Che cosa abbiamo Perché qua c'è Delle pisanguis Direi di prenderlo Assolutamente Ma che cosa è Tipo la merda Dei ratti Aia La ponce tu madre Franco E lasciami in pace Per la miseria Allora Carretto Un carretto Mi devo aprire La strada di qua Opla Opla Grazie Grazie ragazzi Permesso Permesso A merda Qua non passo Ho bisogno Eh ma Se quello dura Così poco tempo Come faccio Qua E dovrei proprio Eliminare Questi ragazzi Mi sa Scusate Grazie ragazzi Le voglio Eh vabbè E vabbè Così Così Non ci siamo Proprio Però Eh vabbè Aia Che cazzarola Però Oh Ma che cazzarola Ok ragazzi Dopo 3 miliardi Di ore Penso di aver capito Cosa devo fare Perché Mi è rivenuto in mente Quello che Dici Dicevano Dei raggi Di luce Che Possono Anche Bloccare I ratti Per cui Visto che Noi con lo Doris Abbiamo L'opportunità Di attirarli In un punto Poi potremmo Avere l'opportunità Di bloccarli In un punto Con la luce Cioè Un attimo Parcio Gammina il cervello No eh Per cui Ragazzi Mi dovete fare il favore Li andate tutti Lì là dentro Grazie Ok Ci siamo Ci siamo Esatto E vai Ah Due topi Sono rimasti fuori Porca miseria Vabbè Due Non potranno essere Troppo un problema Almeno mi auguro Perché se no Posso spararmi Direttamente Non lo so In un piede Emo ci vuole Oh Finalmente Madonna santa Come fa Sta poveretta Da sola A spostare Questo coso Ok però Dobbiamo Spostarlo di là Madonna santa Questo coso È enorme Come farlo Passare qua in mezzo Non lo so Benissimo Scusate ragazzi Se voi intrappolato Lì Però È proprio una questione Cioè De sopravvivenza Capita La legge del più forte Io vi blocco Così andate a quel paese Oh Eh quasi si spacca Sì sì davvero Molto molto Guarda Ecco qua Oh Ci siamo È bloccato bene Oh Finalmente Che gioia Certo 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 Ci sei Ci sei Quanto siamo Ancora lontani Dall'università Spero veramente Non troppo Allora Qua che cosa abbiamo Prendiamo questo Prendiamo questo Che non lo possiamo Prendere Tra l'altro E nient'altro Per cui Procediamoli qua Oddio Gesù Eh Madonna Santa Ragazzi Che mattanza Davvero Che mattanza Eh Speriamo Anche perché Poi una volta Dentro È una parola Madonna Trovarlo Non credo Che sarà così Facile Comunque Può entrarci Oh lord The sick They've slaughtered them The rats They've unleashed the rats They've unleashed the rats Help me Can't I'm sorry Oddio Raga I can't believe They used the rats Against the sick Bene Che è L'arma dell'inquisizione Allora a sto punto Mi viene da chiedermi Cioè da usare A suo piacimento In pratica Questo Mi state a dire Veramente raccapricciante Come cosa Sopra la guardia Attenzione Top Mi dispiace amico Ma Funziona Direi di sì Funziona Proprio La grandissima Ragazzi Rimanete pure lì A banchettare Io non vi disturberò Oltre Me ne sto andando Oh Che schifo Madonna com'è grosso sto tipo ragazzi Oddio E che gli faccio E che gli faccio a questo Allora potrei attirarlo di là Però poi che gli faccio Direi di provare Madonna c'è uno scuro Sì ma ti sei accorta Che ci sta questo tizio Te ne sei accorta Oh E vabbè No 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 Ok 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 Non è quello che devo fare Chiarissimo Anche in questo caso Quando mai non è chiaro Il punto è che Questo qua ragazzi Che è tutto così corazzato Io non credo Che possa essere Divorato tranquillamente Vabbè proviamo Proviamoci comunque Che dite Ah funziona lo stesso Era così semplice Va bene Ok era così semplice D'accordo Allora me lo pianterò Bene in testa Che può essere utile Anche Eh no Questa era mattanza Che schifo Ah c'era un altro pure qua Meno male che l'ho vinto Ragazzi Datemi una cannulata Posso passare tranquillamente Qua dietro Anche se In qualche modo Questi ragazzi Penso di doverli Eliminare Non penso che sia Così semplice Dove vado di qua Scusate Oddio Gesù Allora Qua c'è un'invasione Ah sì È una parola Sì potrei andarci Però dovrei eliminare Tutti questi pezzi Di merda Creare questo Adesso potrebbe essere Un po' costoso Però l'unico modo È questo ragazzi Vabbè dai Facciamo sto piccolo sacrificio Ecco fatto Vediamo un po' Vediamo un po' Se riusciamo ad entrare Qua dentro Senza che Nessuno ci spacchi la testa Perfetto Ok sicuro Prendiamo tutto quello Che si può prendere Tanto comunque adesso Non avrò lo stesso Le risorse necessarie Per poter migliorare Un cazzo Allora aspettate Aumenta la durata Dell'effetto Diodoris Luminosa Questo potrebbe essere utile Direi di Migliorarlo Ragazzi Perché Non si sa Mai È l'unica cosa Che abbiamo potuto Migliorare Meglio di niente Qua c'è L'episanguis Prendiamolo Devo ritornare Indietro Ai nostri due cari amici Come avevo sospettato Che lì ci sono i ratti È vero Ma lì c'è la luce Ragazzi Per cui Il punto è che Se ammazzo uno L'altro verrà a vedere A distrarne uno Eh ma forse Li distrarrà entrambi Vediamo Ok no Sta andando solo Questo tipo ragazzi Proviamo ad ammazzare l'altro Ecco Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Eh vabbè Io me la do a gambe Spero di farcela A darmela a gambe Via 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 Ok Meno male che c'era Sto opzione ragazzi Se no stavo qua Trent'anni È ritornato al suo posto Non si è manco accorto Che il suo compagno È morto Come una merda secca Va bene Devorantis Ne abbiamo ancora uno Per grazie al cielo Usiamolo Sbarazziamoci di questo Pezzo di merda La fermo lì Ecco fatto Oh Problema risolto Ammazza come è rimasto Sta peso sto poveretto Oddio poveretto Fino a un certo punto Non mi fai poi tanta pena Prendiamo tutto 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 Aspetta no Volevo prendere Quello che ha questo pezzo Lì in meta Che cosa ha Allora ragazzi Adesso mi dovete fare Il gran favore Di spostarvi da lì Però arriva fino a un certo punto Il raggio di luce Questo mi pare ovvio Per cui comunque dovremmo attirarli in qualche modo Da qualche parte Sì Li devo attirare tutti Tipo Non lo so Di là Facciamo così va Ragazzi andate Vieni presto No no Che cazzo Cioè ragazzi Ditemi se può essere normale Una cosa Era il genere Non posso essere così Demente Non è possibile Essere così stupidi Davvero Non è possibile Forza Forza e coraggio Emissia Non perdere tempo Oh Adesso state lì Mi raccomando Non vi muovete Oh Finalmente Possiamo passare Andiamo Che abbiamo perso Più troppo tempo Qua No no Sì Quello che ci manca Che schifo Madre Deve essere vicino Qua Sembra che Nella storia infinita Non siamo ancora arrivati Oddio ragazzi Che cosa Veramente brutta Veramente brutta Comunque L'ambientazione È sempre più Scura E spaventosa Questo mi pare ovvio Oh Ah è arrivato E certo Ok ci siamo ragazzi L'università è lì Adesso ci saranno Diverse guardie Da Da togliere In mezzo ai piedi E non sarà Tanto facile Ce ne sono diverse Dovremmo usare i topi Questo mi pare più che ovvio Ah ma sono dentro le gabbie Quella possiamo spaccarla però Farla cadere Fermi tutti Tutta Ecco Oh Ragazzi Grande Grandi Anzi Fate il lavoro sporco per me Pure tuo amico Mi sa che Devi morire Io quella Te la spacco Proprio Con grande facilità Intanto Oh No no Che devi sistemare Tu Sistema sta grandissima ceppa I ratti Per fortuna Abbiamo potuto liberarli In qualche modo Ragazzi Perché se no Avremmo impiegato Veramente 30 anni Dobbiamo usarli Usarli Insomma A nostro Favore E possono andare Dove non c'è Luce È stato ucciso un altro Oh lo stavano divorando È riuscito a scappare Il pezzo di merda Va quel paese Va Tu sia maledetto Allora Dovrò creare altro Devorantis Ragazzi E sbarazzarmi Di quest'uomo Così Tac Ok Uno è morto Chi è che mi ha visto Restiamo un attimo Nell'oscurità Oddio sta venendo qua Dimmi che non mi vede Perché non è proprio il caso Di farsi scoprire adesso Ok Qui c'è Dell'episanguis Prendiamolo Ok Il tipo sta ancora Vagando la mia ricerca Eh ragazzi Lo so che vorreste divorarmi Ma Io adesso sono la vostra Comandante E Dovete fare quello che vi dico Ecco appunto Allora che cosa ha questo qua Perfetto Questo tizio Questo tizio Ha anche all'elmo Vero Ok Ecco qua Io faccio prima ragazzi A fare così Ve lo giuro Mori Ha fatto appena in tempo A starare la spada L'idiota Pensavo di potermi prendere Povero stolto Allora Che altro ci manca di qua Ci manca soltanto Quell'altro stronzo Ragazzi che direi Di lasciare Tranquillamente Lì tu c'è qualcosa Da darmi Niente che posso prendere Oh ce l'abbiamo fatta Ci siamo Uh Sta entrando Sta entrando Eh Guarda caso Dovevano entrare Chissà che cosa Non mi dire che avrà Tipo la stessa malattia Ah Non mi dica La stessa malattia Di Yugo E quindi Non lo so Vuole usarlo In qualche modo Non lo so Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo completato Anche il capitolo Nove La prossima volta Dovremmo giocare Il capitolo dieci Che si chiama La via delle rose Molto interessante Che dire Questo capitolo È stato Bello Non è successo Niente Di eclatante Però abbiamo scoperto Altri metodi Ragazzi Per poterci Destreggiare Fra guardie E franchi Per cui Finalmente Ce l'abbiamo fatta Abbiamo raggiunto Questa benedetta università E guarda caso Ragazzi Il grande inquisitore È proprio qui Però sta questione Sentire il fatto Che questo tizio È malato C'è qualche collegamento Per forza ragazzi Alla malattia di Yugo Ci deve essere Per forza Scopriremo probabilmente Più cose La prossima volta Questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione Un bacio a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Quest'anti aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nel mio social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao